Sì, abbiamo preparato questa partita bene, abbiamo giocato in difesa bene come abbiamo giocato tutte le partite fino ad ora in difesa. Dopo in attacco noi abbiamo i giocatori di alta qualità che possono sempre avere un salto di qualità, di differenza, così c'era anche qui. Nonostante che c'era una differenza tra espulsioni, però noi abbiamo giocato anche con un uomo in meno molto bene, siamo controllati la partita tutto il tempo e alla fine abbiamo dimostrato veramente una bella partita. Per lei arriva il primo trofeo con il Recco, la sua prima esperienza alla guida di una squadra. Sì, sono molto contento perché è un primo trofeo per me in Recco e anche per Recco e mi fa un grande piacere, abbiamo lavorato molto, i ragazzi si sono impegnati molto, tutti volevano questo trofeo e comunque quando sono venuto ho detto che noi intanto vogliamo vincere tutti i trofei. Intanto voglio sapere da lei qual è stato il momento più importante di questa partita, il momento chiave secondo lei? Il momento chiave era all'inizio, perché all'inizio quando noi abbiamo impostato in questo tipo di gioco in difesa e abbiamo aperto alcune possibilità in attacco, adesso noi abbiamo cominciato a staccarsi un po' con il risultato, ma già diciamo come andavano le cose in difesa era chiaro che noi potevamo alla fine ottenere questa vittoria e andare a dare... E qui c'è la festa! Mi fa un grande piacere che i ragazzi sono così contenti e noi adesso abbiamo creato veramente una squadra molto forte, una squadra che si può presentare perché il nostro gioco non è solo un gioco ben organizzato, ma anche un gioco molto attrattivo. Grazie, grazie a Ratko Rudic, a voi!